Buonasera e benvenuti a questo video di Ork & Co. Allora, qui abbiamo lo scuolo balena, la balena della Gruenlandia e la balena a terra azzurra. Allora, lo scuolo balena si illumina al buio ed è di un colore verde con i puo bianchi, molto colorato. Si illumina al buio. Andiamo a vedere le sue caratteristiche, mi raccomando non buttatevi al foglietto. Dimensioni 5, forza 3, velocità 2, astuzia 5, è contro la megattera. Poi abbiamo la balena della Gruenlandia, tra le più belle e più forti di questa collezione di Ork & Co. Andiamo a vedere le sue caratteristiche. Allora, dimensioni 5, forza 4, velocità 3, astuzia 3, è contro l'orca. Andiamo a vedere l'ultimo, la balena a terra azzurra. È la più forte di questa collezione, si illumina al buio. Andiamo a vedere le sue caratteristiche. È contro la balena grigia. Dimensioni 5, forza 5, velocità 4, astuzia 4. Ciao a tutti e al prossimo video! Ciao a tutti! Ciao a tutti!